Buongiorno, per capire i 5 Stelle escono dalla maggioranza e l'assessore Pulluppino resta in giunta? Come funziona? Deciderà il sindaco se rimango in giunta o meno. I 5 Stelle sono usciti? Stiamo discutendo. Quindi la coerenza imporrebbe di lasciare la giunta? La coerenza impone che si apre un dibattito politico. La poltrona non la si vuole lasciare. Non stiamo discutendo di poltrona, Luigi dai. Odone, se uscite dalla maggioranza automaticamente dovete ritirare l'assessore. Ho già fatto tante dichiarazioni, Luigi sei un giornalista attento. Non vorrei capire. Non basta. Vabbè, esci dalla maggioranza e rimani assessore. Non riesco a capire. Hai letto il mio comunicato di oggi? L'hai letto? Ti sei dimessa? Non mi sono dimessa. Perché? Perché ritengo che si può avere il piede in due scarpe. Una fase politica adesso si è aperta e quindi vedremo come comportarci di conseguenza.